Mattinata bollente qui allo Stingi di San Salvo, ma si lavora duro con la Football Academy di Aparesido Cesar. Come sta andando il lavoro sul campo con questi giovani ragazzi? Si sta andando benissimo. La Cesar Football Academy è fatta con una modalità, con una mentalità molto professionale, dove i ragazzi che si iscrivono devono venire con l'impegno, con la dedizione, con la voglia di imparare, la voglia di ascoltare anche le critiche, ma ogni passo che loro devono fare gli diamo le direttive, gli diamo delle linee guide per farli migliorare. Massima tensione, per questo l'allenamento dura quasi tre ore, perché ogni ragazzo viene curato, ha la concentrazione, ha l'impegno tecnico, ha la parte fisica, ha quella metodologica di voler fare, di acquisire qualcosa che ancora non ha. È per questo che abbiamo il piacere di fare degli esercizi di deni con ragazzi così predisposti, anche chi è un po' più lento, chi ha più limiti, serve a tutti. Basta venire con la voglia giusta, senza prepotenza, con l'umiltà, con la determinazione e con il rispetto reciproco. Così riusciamo a dargli qualcosa. Una settimana intensa, ogni giorno un allenamento diverso e questa è la strada giusta della tua academy. Sì, sono circa due ore e mezza, tre ore di allenamento con intervalli ogni mezz'ora per rinfrescare perché fa veramente caldo, dove lavoriamo vari tipi di esercitazioni dalla coordinazione motoria a livello tattico, a livello tecnico, a livello di concentrazioni, di determinazioni. Non mi fermo di parlare con loro neanche un minuto, è fadigoso ma è talmente soddisfacente vedere una crescita di un ragazzo in tre giorni perché sono un metodo di quelli che ho usato io quando io ho giocato. Sicuramente ci sono strade da arrivare ma questa sicuramente è una strada che si può imparare perché trasmetto a loro tutto ciò che ho fatto e se loro si impegnano come lo stanno facendo e solo così possono stare qua, possono migliorare. Sei stato giovanissimo calciatore tanti anni fa, ora li alleni. Come è cambiata la testa del calciatore di allora e del calciatore di oggi? Guarda è cambiata tantissimo prima per i social, prima per la mentalità delle società che si mettono sotto le dinamiche che dopo perdono tantissimi soldi, non danno tanto valore al settore giovenile, investono troppo ma non investono nel settore giovenile. Chi lo fa riesce a ottenere dei risultati. Ma parlando veramente del desiderio di dargli, di trasmettere tutto ciò che abbiamo fatto, tutto l'impegno è importantissimo. Così si fa crescere, lavorando, curando ogni dettaglio. È fadigoso, è come un insegnante vero, un istruttore. E la cosa che dico sempre, perché quando i genitori portano i figli a scuola non entrano dentro a insegnare geografia, matematica, italiano, scienza, motoria, niente. Invece a palloni sono tutti, sono tutti allenatori, tutti capiscono e questo non permetto. Non permetto perché ognuno ha il suo ruolo. Facciamo i conti alla fine. Penso che ognuno è incapacitato, quando si propone a fare qualcosa, di dare il 100%. Può non essere quello che tu aspettavi di me, ma io sono sicuro che do il massimo mio. I ragazzi lo stanno facendo e così si crescono i ragazzi. Staccandosi di questa figura di genitori, di nonni e senza vedere gli allenamenti. I ragazzi devono essere liberi di sbagliare, di essere rimproverati, ma che abbrano le direttive giuste per migliorare, insegnando l'appoggio del piede, il tocco con l'esterno, con l'interno, la postura del corpo. Tutti i valori aggiunti per questi ragazzi e per crescere in modo giusto. Sei stato campione d'Italia, Coppa Italia con l'Inter, la Lazio, esperienze anche a Livorno, a Bologna, ma l'Abruzzo ti ha accolto nel 2009, l'esperienza nella Marsica con il Pescina. Da allora ad oggi sei rimasto legato a questa regione perché ti abbiamo visto nei mesi scorsi assistere ad alcune partite di promozione tra Vasto Marina e Casalbordino. È forte questo legame con la nostra regione? Guarda, non dico che è stato casuale perché avendo conoscuto una persona che ha le origini abrucesi, che è il Massimo Giandomenico, il socio e nonché amico negli affari e nella vita, coincidentemente siamo arrivati qua un'altra volta, all'Abruzzo, dopo quel passaggio Pescina Valle di Giovenco in Serie C, poi a vedere il suo figlio che gioca a Casalbordino, i quali sono riusciti a salire in categoria, hanno vinto l'eccellenza e siamo venuti a guardare i ragazzi. E questa idea della Cesar Football Academy è molto concentrata, veramente con i valori, perché se prendiamo tanti ragazzi e non abbiamo istruttori adeguati per farli capire, per insegnarli, per essere a disposizione di questi ragazzi, diventa anche difficile mantenere un standard, un format. Ecco perché ci tengo ad essere in campo, presenti e lavorare io con loro. Riusciamo a dare il nostro meglio, cerchiamo di fare sempre il meglio, proviamo sempre e penso che questa è la metà giusta per crescere anche noi. Mister Gian Domenico, amicizia che ti lega stretta a Daparesido Cesar, sei anche tu qui nella Football Academy, avete fatto tappa a San Salvo, sintetico del Tomeo, grazie all'amicizia che vi lega alla signora Adriana Notaro e a Cristian Di Nardo. Una settimana di lavoro intenso, come sta andando? È una bellissima settimana, la prima volta che facciamo questa tappa a San Salvo della Cesar Football Academy. Siamo molto contenti perché ci sono stati parecchi prenotazioni, è un momento anche difficile, però ci sono parecchie prenotazioni, i ragazzi si impegnano molto, ugualmente che noi, però io sono molto sorpreso perché i ragazzi oggi è il terzo giorno, è un allenamento di alto rendimento, dei ragazzi che magari non sono abituati a fare quel tipo di allenamento e loro non molano, nemmeno moliamo noi e siamo molto contenti per questo perché loro ci seguono e stanno qua sotto il sole e lavorano al 100%. Nonostante il grande caldo verrebbe da dire, come ne avevamo parlato prima con mister Cesar, c'è un legame forte con l'Abruzzo, il tuo ancora più recente visto che tuo figlio Maximiliano è fresco di un campionato vinto in promozione con la maglia del Casalbordino di Patron Santoro. Qui a San Salvo avete tanti amici, anche a Casalbordino possiamo dire lo stesso. Sì, veramente, grazie a Cristian Di Nardo che mi ha presentato il Casalbordino, io ho mandato un video del mio figlio che era rimasto libero dell'aprile al Serie D, lo hanno contrattato per fare questo campionato, il girone del ritorno, hanno fatto 14 vittorie, un pareggio, hanno vinto lo scudetto di promozione, anche migliore difesa abruzzese, migliore difesa centro Italia, quarta italiana che è tanto per il mio figlio fa il difensore, sono molto contento, ringrazio sempre Alessandro Santoro e Gianluca Senese per far poter partecipare a mio figlio nella Casalbordino. Io sono d'origine anche a Prustese, mio padre è nato a Milianico nel 1930, ha migrato in Argentina, sono nato in Argentina e sono molto legato alla regione Abruzzo. Quindi diciamo legami familiari stretti, settimana prossima tornerete a Roma per altre avventure, ma dopo questa prima esperienza qui a San Salvo c'è voglia di tornare anche nelle prossime state e magari fare qualcosa di ancora più importante con gli amici che vi hanno accompagnato in questa prima avventura. Abbiamo un'idea adesso da sviluppare che può darsi fare un'altra settimana di alto rendimento con qualcuna scuola calcio qui a San Salvo o nell'Abruzzo nel mese d'ottobre, stiamo parlando per vedere se possiamo concludere questa operazione e io verrò tutte le domeniche a vedere il Casalbordino perché c'è mio figlio, sicuramente verrà qualche domenica a César a vederlo.